Di mesi fa, adesso però bisogna dare continuità alle parole, alle iniziative. Diciamo che questo è stato un passo importante per l'attuazione del progetto, era lo specifico impegno che si era assunto la Prefettura insieme alle forze dell'ordine di fare questo percorso di legalità con gli studenti. Il progetto non è fatto solo di questo però, è fatto di tantissimi altri impegni delle società, delle amministrazioni comunali, con il pieno coinvolgimento dei diffusi. Mi auguro che tutti stiano facendo la loro parte. È un percorso lungo comunque. Stamattina abbiamo fatto questa giornata di festa con i ragazzi. Io ho fatto una battuta, non buttate i gadget subito ma dopo un po'. Lei ha sentito delle frasi che ci sono state stesse tra i giovani? Non lascia presagire tanto di buono. Speriamo di sbagliarci. È un primo passo, ci si incomincia a provare, ci si augura. Sinceramente mi sarei aspettata una maggiore integrazione da parte dei giovani. Non l'ho vista tanto al di là degli aspetti formali. Mi auguro che sia l'inizio di un percorso che si possa andare avanti. Come diceva lei prima, Salernitana, Nocerina, del prossimo 10 novembre è un testo importante. Lei sarà alla rete in quell'occasione? Io sarò, come abbiamo detto ieri, al capo della polizia, insieme al vice capo della polizia, il prefetto Cirillo. Credo anche l'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori perché per noi sarà un appuntamento molto importante. Lei ormai ha stabilito un legame abbastanza forte con questa città. Conosce bene anche la realtà che ha città salernitana. Che cosa pensa anche di quello che sta facendo la salernitana sul campo e del pubblico di Salerno? Allora, del pubblico posso pensare solo bene perché è un pubblico così caloroso che il dodicesimo uomo mi sembra evidente. Lei mi fa la domanda sulla salernitana dopo una partita vinta a Benevento. Mi fa giocare sul velluto. Benevento è una grande squadra che punta ad essere promossa. Il fatto che la salernitana abbia vinto su quel campo è certamente un simbolo e una forza della squadra. Ci sono tutte le condizioni perché queste città possano salire. A me dispiace per certi aspetti, però logicamente sono felice per la città di Salerno che possa salire. Ecco, bocca al lupo. Si stanno creando le condizioni giuste e necessarie per poter disputare i derby, soprattutto a Salerno, alla Rechi, a Porti Aperte. Crede che Salernitana-Locerina sarà il primo testo oppure la decisione non è stata ancora ben sedimentata? Allora, come è scritto nella convenzione, le tifoserie e le città di Salerno, di Pagani e di Nocera hanno un'occasione per poter giocare. A decidere, come è giusto, competerà al prefetto e al questore di Salerno. Io posso dire solo una cosa, in questi mesi ho trovato due persone di estrema qualità, di grande sensibilità, di grande professionalità, di cui le città e le tifoserie si possono fidare. E quindi, essendo tra le altre cose un giorno di festa a quel derby per la città di Salerno, io spero di vedere non solo il derby ma anche tutta la luminoria che c'è e quindi mi auguro di essere qua. Dal punto di vista tecnico, la Salernitana che ha cambiato alleatore, ha ritrovato il pilone e ha ritrovato anche il suo giusto. La Salernitana che punti a salire mi sembra evidente, ha vinto in un campo difficilissimo come quello di Benevento, un derby senza nessun incidente ed era già un test come quello precedente tra Benevento e Nocerina. Non è successo nulla, la Salernitana aspira a salire, da un lato mi dispiace, però che devo dire, in bocca al lupo, con grande gioia.